Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniel e bentornati sul canale di progetto. Quest'oggi vogliamo sviluppare un semplice script in Python che ci vada a riconoscere le gesture, quindi vari gesti che possiamo interpretare con una mano. Quindi se ad esempio mostro il pollice voglio che mi venga riconosciuto ok, oppure se mostro l'indice, solo l'indice, che mi venga riconosciuto un 1, poi 2 dita 2, 3 dita 3, 4 dita 4 e 5 dita 5. Come prima cosa per il nostro script ci servirà importare OpenCV, quindi scriviamo ImportCV2, ci servirà NumPy, quindi ImportNumpy as an ap e poi ImportMath. Successivamente andiamo ad acquisire una video capture, quindi scriviamo cap uguale cv2.videocapture e gli diamo la telecamera a 0. Successivamente ciclo infinito, while true, e andiamo ad acquisire il nostro frame, quindi scriviamo frame uguale a cap.read. Successivamente all'interno di un blocco try catch andiamo a scrivere il nostro codice, quindi come prima cosa scriviamo frame uguale a cv2.flip e gli passiamo frame virgola 1 perché vogliamo andare a girare, a specchiare in sostanza la nostra immagine. poi scriviamo kernel è uguale a np.once di 3,3 e poi prendiamo 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 np.once. ad esempio mettiamo 100,300, poi di nuovo 100,2.300 e andiamo a disegnare un rettangolo, quindi rectangle, poi gli passiamo il nostro frame, dimensioni di partenza, varie dimensioni di arrivo, colore, quindi mettiamo 0,255, 0 ad esempio, e 0. poi scriviamo hsv e andiamo a convertire il colore della nostra regione, quindi cvt color, e gli passiamo la nostra regione, virgola cv2.vgr2hsv, in questo modo. ora invece andiamo a definire un range, tra virgolette, di colori che la nostra mano può assumere, quindi scriviamo lowerskin è uguale a np.array e gli passiamo successivamente 0,20,70 con dtype uguale a np.wint8, copiamo, incolliamo e scriviamo limite superiore che è costituito da 20,255 e 255, sempre np.wint8, ora andiamo ad estrapolare il colore tramite una maschera, quindi mask è uguale a cv2.inrange, e gli passiamo la nostra immagine convertita in hsv, gli passiamo il limite inferiore e gli passiamo il limite superiore, quindi upper skin, quindi con questa parte qui in sostanza la regione contenuta tra il minimo e il massimo verrà colorata di bianco e la regione esterna al minimo e il massimo verrà colorata di nero, in questo modo noi potremo avere una maschera in cui la parte bianca è costituita solo dalla nostra mano, successivamente andiamo a dilatare un po' l'immagine, quindi scriviamo cv2.delete mask e gli passiamo kernel e un numero di iterazioni uguale ad esempio a 4, e successivamente andiamo a sfocare un po' la maschera, quindi scriviamo mask per riempire un po' più i contorni per farla sembrare un po' più morbida, scriviamo gaussian blur e gli passiamo la mask, gli passiamo 5,5 e 100, e successivamente andiamo a mostrare la maschera, cv2.imshow, passiamo il nome mask e mask, scriviamo except, exception as e, due punti pass, e non ci interessa, ed infine andiamo a scrivere cv2.imshow, gli passiamo il titolo frame con il nostro frame, if cv2.waitkey di 25 and logico 0xff è uguale a 27, allora interrompiamo il nostro ciclo while, se abbiamo interrotto il ciclo while, chiudiamo tutte le finestre e rilasciamo la capture, quindi scriviamo un bar release, quindi proviamo ad eseguire e vediamo che è stata presa una parte del frame, questa contenuta in questo quadrato, e qui in alto, a sinistra, potete vedere la maschera che abbiamo applicato, come potete vedere si può vedere la nostra mano, quindi abbiamo definito i contorni della mano in nero e la mano in bianco, come potete vedere sfocando un po' l'immagine, e comunque dilatandola, la nostra mano sembra molto più uniforme, quindi procediamo, al di sotto di cv2.imshow di mask, scriviamo contours, che sta per contorni e hierarchy, in realtà questo non ci serve neanche più di tanto, scriviamo cv2.findcontours e gli passiamo la nostra maschera, andiamo a cercare i contorni della nostra maschera, cv2.retr3 e poi gli passiamo un'approssimazione semplice a catena, quindi chainapproxsimple. successivamente scriviamo cnt è uguale a max di contours, quindi andiamo a prendere l'area massima, con key che è uguale a lambda, lambda di x, 2.cv2.contours area di x, in questo modo andiamo a prendere appunto l'area massima. Ora invece andiamo ad approssimare un po' il contorno, quindi scriviamo epsilon è uguale a 0.0005 e lo moltiplichiamo per cv2.archlength di cnt e gli passiamo true. E successivamente andiamo a definire la nostra approssimazione, che è uguale a cv2.approxpoli di p, gli passiamo cnt, gli passiamo il nostro epsilon, quindi di quanto lo vogliamo approssimare, e true. Andiamo quindi ora a creare il nostro convex hole intorno alla mano, scriviamo cv2.convexhole e gli passiamo cnt, quindi il nostro contorno, successivamente andiamo a definire l'area di all, quindi area all è uguale a cv2.contourarea e gli passiamo all e poi l'area del contorno, quindi area cnt che è uguale a cv2, potevamo anche copiare e incollare, e gli passiamo cnt. In questo modo, questa la scriviamo maiuscola, quindi ora andiamo a cercare la percentuale di area non coperta dalla mano nel convex hole, e scriviamo area ratio, che è uguale a, parentesi, parentesi, l'area di all, meno l'area del contorno, diviso l'area del contorno, e lo moltiplichiamo per 100. Successivamente andiamo a cercare i difetti all'interno della regione di all rispetto alla nostra mano, quindi scriviamo all è uguale a cv2.convexhole e gli passiamo l'approssimazione con return points uguale a false. e successivamente definiamo i difetti, quindi defects, è uguale a cv2.convexity defects e gli passiamo a prox e all. utilizziamo l per contare i difetti e quindi ora andiamo quindi a contarli. scriviamo for i in range di defects punto shape, shape di 0, due punti, s, e, f e d saranno uguali a defects di virgola 0. A noi però interessano questi primi tre, quindi andiamo a scrivere start è uguale a una tupla dell'approssimazione di s di 0. copiamo e incolliamo che facciamo prima, in python mi raccomando indentate, and è uguale ad e, e far è uguale a f. ed infine scriviamo pt è uguale ad una tupla costituita da 100 e 180. successivamente andiamo a cercare la lunghezza di tutti i lati del triangolo, scriviamo mat.sqrt e gli passiamo and di 0 meno start di 0 per per 2 e poi gli sommiamo and di 0, and di 1, scusate, meno start di 1. e anche questo facciamo per 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 2. Ovviamente questo per per 2 significa elevare al quadrato. quindi ora copiamo e incolliamo per fare prima e facciamo la stessa cosa con b che sarà uguale a far di 0 meno start di 0 più far di 1 meno start di 1. Ed infine abbiamo and di 0 meno far di 0 più and di 1 meno far di 1. infine s sarà uguale a a più b più c diviso 2, ovviamente questo è da chiamare c, e successivamente scriviamo r uguale a mat.sqrt e poi gli passiamo s per s-a per s-b e per s-c. ora calcoliamo la distanza tra i punti del convex hull, quindi 2 per ar diviso a e andiamo a calcolare l'angolo che è uguale a mat.cos di b al quadrato più c al quadrato meno a al quadrato il tutto diviso per 2 per c per b e poi moltiplichiamo per 57. successivamente andiamo ad ignorare gli angoli maggiori di 90 gradi e anche i punti troppo vicini alla convex hull. quindi scriviamo che se l'angolo è minore o uguale a 90, quindi solo in questo caso e d ad esempio è maggiore di 30 allora scriviamo l più uguale a 1 e andiamo a disegnare un cerchio. quindi circle, gli passiamo la nostra region, gli passiamo far, gli passiamo 3, un colore, quindi 255, 00 ad esempio, virgola, meno 1. andiamo a disegnare delle linee che definiscono i contorni della regione, quindi region, start, end, che sono poi le linee che verranno disegnate intorno alla nostra mano. gli diamo un colore, ad esempio 0,255, 0,2, scriviamo l più uguale a 1 al di fuori del ciclo for, successivamente scriviamo font uguale a cv2 punto font hershey simplex, poi scriviamo se l è uguale uguale a 1, andiamo a controllare se l'area contorno è minore di 2000, se è minore di 2000 allora andiamo a scrivere qui i due punti, cv2 punto put text, andiamo a scrivere test, frame, virgola, diciamo di avvicinare la mano, passiamo ad esempio 0,50, font, 2, un colore, 0,0,125, 3 di spessore, e cv2 punto line aa, copiamo questa riga che in sostanza la dovremmo riscrivere tutte le volte, però l'unica cosa che cambia è solo il testo che ci andiamo a mettere dentro, quindi conviene copiare e incollare, e scriviamo else nell'area contorno, e scriviamo if area ratio è minore di 12, allora incolliamo e andiamo a scrivere 0, poi scriviamo el if, se l'area ratio è minore di 17.5, allora scriviamo ad esempio per il pollice in su gli scriviamo bella, altrimenti in tutti gli altri casi assumiamo che abbiamo mostrato l'indice e quindi vogliamo dire 1 al nostro algoritmo, se invece l'area è uguale a 2, allora andiamo a scrivere 2, se l'area è uguale a 3, allora abbiamo due casi, quindi se area ratio è minore di 27, allora assumiamo che noi vogliamo indicare 3 come numero, altrimenti in tutti gli altri casi assumiamo che noi stiamo facendo l'ok con la mano, quindi classico ok con indice e pollice che si toccano e in sostanza le altre dita vengono mostrate come 3, quindi scriviamo ok. Negli altri casi, che sono sempre più semplici, scriviamo el if l è uguale o uguale a 4, allora andiamo a mostrare il 4, el if l è uguale o uguale a 5, andiamo a scrivere 5, in tutti gli altri casi, else, scriviamo riposiziona la mano, quindi tutti gli altri casi indipendentemente noi chiediamo di riposizionare la mano. Proviamo a vedere ora se il nostro algoritmo funziona, diamo il via, ok, sta facendo un po' fatica in quanto bisogna tenere molto aperta la mano, proviamo a tirar via un dito, 4, ok, 3, perfetto, proviamo a fare l'ok, ce lo prende, ok, ce lo sta prendendo, perfetto, proviamo a fare 2, il 2 ci ho provato anche prima e lo prende benissimo, veramente bene, pollice, bella, indice, dovrebbe mostrare un 1, perfetto, mostra l'1 e con la mano chiusa mostra lo 0. Mi raccomando ragazzi, è importante, guardate la maschera, vedete che il contorno è tutto nero, quindi in questo caso fa poca fatica, ad esempio, ad andare a valutare cosa stiamo cercando di creare con la nostra mano, quindi più che altro indicizzare, questo perché sto utilizzando un'illuminazione della stanza molto tranquilla, non ci sono tante luci e infatti la mano è messa contro luce su uno sfondo comunque abbastanza scuro, nel caso in cui vi trovate in un ambiente con molta luce, molto illuminato, eccetera, probabilmente questo algoritmo potrebbe anche non funzionare, però insomma ragazzi è un buon esercizio per imparare a conoscere la libreria OpenCV e comunque è molto carino per dare appunto degli input al nostro computer e magari crearci una piccola intelligenza artificiale o rete neurale che sappia rispondere in base alle nostre gesture. Quindi ragazzi per il video di oggi questo è tutto, io spero tanto che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, come potete notare qui alle mie spalle ho dovuto mettere un cartone appunto per far entrare poca luce e per dimostrarvi che l'algoritmo funziona, se avete qualche domanda da porci scriveteci assolutamente qui sotto nei commenti che vi risponderemo, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi le puntate successive e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!